A tre mesi dal voto di aprile, che non aveva dato una maggioranza chiara, la Bulgaria torna alle urne per le elezioni politiche anticipate. Nonostante le proteste antigovernative della scorsa estate e una serie di nuovi scandali per corruzione, i sondaggi danno ancora in lieve vantaggio la coalizione capeggiata da GERB, partito del premier uscente Boiko Borisov. Il divario con lo sfidante, lo showman Slavi Trifonov e il suo ITN, è però molto piccolo e alle urne il risultato potrebbe non essere scontato. Restano invece distaccati i socialisti guidati da Cornelia e Ninova, terza forza politica alla vigilia del voto. Ma Ninova ha ben chiaro che senza il sostegno del suo partito sarà difficile per le formazioni e l'opposizione avere i numeri per dare vita a un nuovo governo. Secondo gli analisti politici ci sono poche possibilità che Borisov torni in carica per un quarto mandato. Nonostante il vantaggio di GERB, la maggior parte dei gruppi politici ha infatti rifiutato l'idea di cooperare con l'ex partito di governo. Grazie. 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 Grazie.